Ciao a tutti ragazzi sono io sono LK300 e bentornati in questo nuovissimo video Ultimo video della stagione 7 capitolo 2 ragazzi Ho un hype addosso che non potete capire Tra l'altro appunto tra 3 ore ci sarà finalmente l'evento finale Tra l'altro ragazzi oggi nel negozio oggetti è uscita una skin veramente top che già conoscevamo Però che è molto molto figa da vedere Vedete a tutte le rune del cubo tra l'altro appunto personaggi, entità che dovrebbe tornare all'interno del gioco per come ci hanno detto Davvero carina questa skin, l'avrei comprata ma rimango a 300 vbac per il prossimo pass battaglia Preferisco comprarmi il prossimo pass se non fa schifo come questo qua Comunque ragazzi oggi vi dirò alcuni di X e soprattutto come partecipare all'evento finale Molto molto semplice Allora per partecipare all'evento finale ragazzi dovete per prima cosa loggare su Fortnite almeno 1-2 ore prima Io vi consiglio sempre 1 ora e mezza, 2 ore prima Perché il semplice fatto è che 1 ora prima non vi farà mai entrare Perché io già ho provato una volta e mi sono perso l'evento del dispositivo proprio per questo motivo E ho detto vabbè loggo 1 ora prima Invece no ragazzi io vi consiglio di loggare il prima possibile Basta che lasciate Fortnite aperto tanto non è come Apex Legends e altri giochi che vi fanno uscire se state troppo inattivi 2 ore inattivi non vi farà niente Fortnite, state tranquilli anche perché l'ho provato Per l'evento di Galactus sono stato 4 ore in lobby, figuratevi quindi tranquilli E soprattutto ragazzi le modalità come c'è scritto anche tra l'altro qua in basso a destra Le modalità ragazzi saranno tutte disattivate Dalle 21, 15, 21 e mezza ci sarà subito la playlist quindi la modalità a parte per l'evento Quindi non vi preoccupate Tra l'altro ragazzi appena c'è la modalità subito voi cliccatela Entrate in partita il prima possibile tanto Fortnite non si concluderà quella partita Durrò fino all'infinito fin quando non inizierà l'evento quindi tranquilli Quindi voi entrate non appena vedrete ragazzi l'iconcina dell'evento voi entrate subito Non dovete perdere neanche un istante per riuscire a accaparrarvi il posto Vi ricordo che Epic Games tra l'altro ha scritto nel suo articolo che potete entrare fino a 16 amici Quindi mi raccomando non vi fate problemi di questo tipo se siete molti amici Mi raccomando entrate che alla fin fine non vi succede nulla Adesso che abbiamo parlato di questa cosa vi parlo di altre cose Allora hanno disattivato purtroppo il laboratorio da battaglia creativa eccetera eccetera Andremo in singolo e speriamo che non ci facciano il culo E andremo a vedere ragazzi l'ultima fase di potere pannocchia E poi andremo su Twitter perché su Twitter ragazzi c'è Donald Master che sta combinando un po' di casini Sapete al solito lui prima di un evento importante sul gioco ci spodera un po' di roba Quindi adesso andremo a vedere Allora andiamo a vedere la situazione a potere pannocchia E vediamo se ci può dare qualche indizio in più Poi vediamo vediamo ragazzi vediamo un po' Tra l'altro ragazzi questa qua sarà l'ultima mappa che vedremo Speriamo che faranno grandi cambiamenti lo spero veramente tanto Spero che non facciano troppi cambiamenti alla mappa Altrimenti poi resterà così per tutta la stagione 8 Quindi fanno dei cambiamenti importanti sì ma che comunque modificano anche nel tempo Quindi spero che facciano dei cambiamenti grandi Ma allo stesso tempo vogliono che faccio anche voglio che facciano dei cambiamenti poi dopo la season Quindi magari in mezzo alla season così almeno non si perde il ritmo no di vedere nuove zone In questa stagione non hanno messo niente soprattutto è rimasto così quindi proprio hanno sbagliato tutto Però andiamo allora ragazzi come potete vedere la nuova fase di potere pannocchia è molto molto diverso Come potete vedere le bombe vabbè sono pronte all'attacco Qua vedete ci sono nuovi pezzi di terra tra l'altro e tutti i pezzi di terra adesso sono molto più vicini Non so se come dire oh cazzarola Non so se i pezzi di terra diciamo dipendano dall'evento comunque siano parte integrante e servono qualcosa per l'evento Credo proprio di no eh Però magari mai dire mai ecco Allora qua c'è una cassa andiamo a prendere immediatamente così almeno possiamo difenderci dai nemici ostili Tra l'altro ragazzi mi sta andando malissimo il gioco non carica la grafica non carica un pochettino i server Fanno un po' schifo e vabbè mega rip Probabilmente c'è un sacco di gente già che sta loggando per evitare di non accapararsi il posto Ok questo qua l'abbiamo eliminato easy Tra l'altro ragazzi le modalità singolo e le altre robe si disattiveranno molto molto prima del previsto Quindi non ci sarà neanche il tempo di diciamo passare il tempo appunto ammazzare il tempo per arrivare Ovviamente io ragazzi sono in live sulla piattaforma viola quindi mi raccomando ragazzi mi raccomando Eh seguitemi anche lì e venitemi a trovare Sarò dalle circa dalle sette e mezza otto in live Eh sarò in live là però potremo fare di tutto non è che sarò in lob e non fare niente giustamente Poi nel frattempo magari arriva gente perché non è che io sia così tanto conosciuto ecco Comunque ragazzi questa è quella situazione attuale abbiamo sempre la parte centrale quella forse più importante di potere pannocchio E carica di esplosivo come tutte le altre zone però le altre zone mi sa che ne hanno un po' di meno Come possono vedere poi abbiamo il buco al centro della nave madre che onestamente non è che sia cambiato così tanto Staremo attenti invece ai tweet di Donald Mustard quindi mi raccomando ovviamente li seguiremo in live non farò più video su youtube L'unico video che pubblicherò sarà quello della reaction all'evento perché ovviamente lo registrerò dato che sarò anche in live nel frattempo Quindi eh oggi come video uscirà solo la reaction e poi domani probabilmente uscirà la reaction alla nuova stagione 8 Quindi ragazzi sarà pieno pieno di contenuti Questo mese sarà pieno di contenuti probabilmente Pienissimo di contenuti e beh alla fine non c'è nulla di particolare tra l'altro siamo anche sopravvissuti Non so come abbiamo fatto anzi come abbia fatto andiamo su twitter sapete che è molto molto indicato twitter per quanto riguarda queste cose Chi ovviamente segue l'X lo sa meglio di me Fatto sta che Donald Mustard ha cambiato di nuovo il banner con il punto 0 tra l'altro questo diciamo come dire Questo disegno no? Questa immagine diciamo che non esiste nel gioco non è mai esistito Sono cose che si mette lui e parte che probabilmente hanno però che non esiste realmente nel gioco E questo no? E ogni volta che c'è un evento col punto 0 guardate caso lui si va a mettere questa roba qua Se l'è messa ragazzi la stessa identica immagine l'ha messa qualche ora prima che iniziasse l'evento di Galactus L'anno scorso quindi questo ci fa presumere appunto che potrebbe tornare di nuovo il punto 0 Non l'ha messo invece quando è iniziato l'evento della stagione 6 capitolo 2 Ma secondo me semplicemente per il fatto che quell'evento era in single player Quell'evento si poteva ripetere all'infinito e quindi forse è evitato Siccome questo qua è un evento live che non si ripete all'infinito e che appunto segna un passaggio della season importante Probabilmente l'ha messo stavolta Poi ha commentato l'ultimo tweet proprio super recente E' stato questo qua con scritto tomorrow Considerate che l'ha messo all'1.44 di notte Ha scritto domani gli occhietti quindi non ha fatto nulla di eccezionale Tra l'altro ragazzi ho scoperto che sono stati spoilerati alcune robe dell'evento Perché l'evento è stato decriptato Io ovviamente non l'ho guardato quindi figuratevi se pubblico spoiler anche qui su youtube Comunque ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto vi ho detto come partecipare all'evento Vi ho detto anche come riuscire a caparrarvi il posto Speriamo che vi sia stato utile e niente noi ci vediamo a un prossimo video Speriamo che ci vediamo a un prossimo video